Sono sindaco di Gorizia. Da mesi, mesi, sto denunciando una situazione scandalosa, una situazione disumana. Oltre 100 richiedenti asilo dormono all'adiaccio, letteralmente all'adiaccio, in una galleria fredda, umida, una galleria nel centro cittadino, una galleria Bombi. E a nulla, letteralmente a nulla, sono i valsimi reiterati, ripetuti appelli ai vari ministri, al presidente del Consiglio dei Ministri, affinché vengano trasferite queste oltre 100 persone altrove. Altrove, strutture ovviamente più adeguate rispetto a quelle che posso trovare nella nostra città. Ebbene, è davvero questo il modello Italia, di cui il governo italiano va così fiero? Accogliere tutti per poi lasciarli in una galleria? È letteralmente una vergogna. Gorizia ha oltre 350 migranti ospitati in strutture convenzionate. Quasi tutti che arrivano da altri paesi europei, che peraltro li hanno respinti. E per lo più provenienti dal Pakistan, che come è noto non è affatto un paese in guerra. Perché non si vogliono bloccare questi flussi e li si lascia invece arrivare fino qui, qui a Gorizia, per poi farli vivere in queste orribili condizioni? È letteralmente una vergogna. Dov'è quell'Europa? Dov'è quello Stato italiano? Che stanzia 4 miliardi e 700 milioni per i migranti e poi li abbandona in una galleria rovesciando il problema sulla nostra città? Ebbene, io faccio questo appello pubblico sperando che il governo non giri più la testa da un'altra parte e che finalmente possa intervenire.